Benvenuti cari amici di mobileOS.it, siamo in compagnia quest'oggi di Yeats Monaco 47, un dispositivo Windows Phone di Yeats, un'azienda che è arrivata da poco sul mercato italiano, azienda americana, che produce un device ultracompatto, andiamolo a scoprire. Vediamo cosa è compreso in confezione, abbiamo il dispositivo, poi lo andiamo a vedere un pochino più da vicino, poi all'interno troviamo davvero tantissimi accessori, quindi complimenti a Yeats. Innanzitutto sono numerosi caricatori per tutto il mondo, quindi direi che questi li possiamo tranquillamente saltare, naturalmente c'è anche il caricatore europeo, poi, ok, saltiamo pure questo, troviamo, come potete vedere, delle cuffie modello, le faccio vedere anzi, eccole qua, cuffie con modello in-ear, logo Monaco 47, anzi solo Monaco, quindi molto carine, si indossano bene e troviamo all'interno anche i lumini di ricambio, cuffie davvero eleganti. Poi sotto ancora abbiamo la batteria, vabbè, ok, poi il cavo USB, micro USB, poi devo aver tolto anche il caricatore, ok, forse era questo, sì esatto, questo è il caricatore che si va poi ad applicare, si va qui ad applicare poi il datatore per il paese in cui viene venduto, caricatore che ha un'uscita pari a 1,2 Ampere. Poi ancora sotto troviamo Quick Start Guide e un manuale invece più completo riguardante il dispositivo e infine, dursi in fondo, ancora altri accessori, una pratica pellicola per il display e poi delle cover del prodotto. Possiamo andare a vedere come qui, ad esempio, c'è una cover bianca, sul telefono di default viene inserita una cover nera, c'è la cover bianca e naturalmente anche in queste altre colorazioni. Questi che hanno una cover nera più vivace e poi, volendo, c'è anche una custodia a libero, sempre con il logo Monaco, quindi tutto a riporto, diciamo. Davvero una confezione ricchissima, mai vista una confezione così ricca per uno smartphone. Togliamo tutto, allora, e andiamo a parlare del prodotto di questo Monaco 47. Abbiamo Windows Phone 8.1, ma l'azienda fa sapere che il prodotto verrà aggiornato a Windows 10 appena possibile, display da 4,7 pollici, IPS, HD, 1280, 720 pixel, 312 ppi. Processori lo Snapdragon 200, quad core da 1.2 GHz, 1 GB di RAM, la GPU e la Reno 302, 8 GB espandibili tramite microSD. Wi-Fi, dual SIM, 3G, Bluetooth e GPS. Batteria interna, l'andiamo a vedere subito, 1750 mAh, si estrae così, qui c'è la batteria naturalmente removibile, qui l'ingresso per le due micro SIM e qui invece l'ingresso per la microSD. Sul posteriore troviamo anche il logo Monaco, lo speaker qui sotto e troviamo naturalmente la fotocamera posteriore che risulta essere da 13 megapixel con flash LED. Sopra ingresso per il cavo micro USB e jack da 3,5, a destra il tasto accensione e spegnimento, sotto l'incavo per estrarre la cover e il microfono, a sinistra troviamo il bilangere del volume. Davanti invece troviamo il padiglione auricolare e la fotocamera secondaria per i selfie da 5 megapixel. Sotto troviamo i classici tasti di Windows Phone, in questo caso messi come due puntini e il tasto centrale. Dimensione, 135,8 x 67,2 x 6,8 x 1 mm di spessore e peso 120 grammi, quindi davvero leggerissimo. Dispositivo, come vi ho detto, espandibile tramite microSD ma varientale da 8 GB. Direi quindi che abbiamo detto un po' tutto riguardanti questo prodotto di YETS, ci vediamo allora tra una settimana per la recensione finale del device. Ciao!